Grazie a tutti. E' il dottore Emanuele Bonpan, direttore della rivista Materia Rinnovabile, che parlerà dei settori di applicazione dell'economia circolare affrontando una valutazione degli ostacoli e delle opportunità. Grazie. Grazie. E' un'economia circolare che si oppone a quella che è l'economia lineare, questo penso sia un concetto chiaro a tutti, quindi un'economia che va a rigenerare il pianeta, un'economia che va a ottimizzare la produzione, un'economia che va a ripensare i flussi della materia, un'economia che va a correggere le storture di 150 anni di un'economia basata sul concetto di estrai, produci, consuma, dismetti. Oggi in Italia c'è un problema regato all'economia circolare, che è quello di pensare esclusivamente al rifiuto. Oggi si dice che l'economia circolare è un'economia dove il rifiuto viene valorizzato, dove il rifiuto diventa qualcosa o qualcos'altro. L'abbiamo visto nei cicli dell'economia di Pauli, l'abbiamo visto in altri esempi durante la mattinata e ne vedremo probabilmente nel pomeriggio. In realtà l'economia circolare è molto di più. L'economia circolare è un modo completamente nuovo di vedere l'intero ciclo vita dei prodotti e dei servizi in qualsiasi settore. Non c'è un settore nella nostra economia che non possa diventare circolare, dall'edilizia alla costruzione di automobili, da chi si occupa di servizi digitali, a chi produce oggetti di largo consumo, dall'alimentazione alla chimica. E quindi è difficile anche cercare di vedere degli esempi, ce ne sono tantissimi in realtà. Il fatto stesso che noi abbiamo una rivista, Materia Rinnovabile, che esce in tutto il mondo in inglese come Renewal Matters e che da 27 numeri raccoglie esempi da tutto il pianeta, di servizi, di idee, di innovazioni, di start-up, di imprese, di processi legati all'economia circolare, dimostra questa vitalità incredibile dell'economia circolare. Per capirla però uso uno schema, uno schema che fa vedere tutti gli elementi dove noi possiamo applicare la filosofia della circularity. Ovviamente noi in un sistema emettiamo sempre materie prime che entrano e ovviamente costituiranno i prodotti della nostra economia. Il primo errore però sta di solito nel design. Noi molto spesso produciamo oggetti che sono belli, qualche volta che sono funzionabili, in casi rari che sono belli funzionali e qualcos'altro. Prima ancora di andare a trasformare uno scarto di zoccolo di cavallo in una nuova materia o qualsiasi altro prodotto, probabilmente bisognerebbe capire che cosa stiamo producendo, quali sono questi oggetti che un giorno saranno scarti. Io faccio un esempio molto banale di errore di design. Voi avete presente tutto il sacchettino, quello che è metà plastica e metà carta. E che voi quando dovete andare a buttarlo, se siete fortunati e avete una buona raccolta differenziata, non sapete cosa fare di questo oggetto. Tra l'altro magari lo mettete nella plastica, poi in realtà quello è un tipo di plastica che non verrà riciclato perché in Italia si fa male il riciclato. Lo buttate nella carta, però in realtà non è idoneo per la carta perché contiene anche elementi plastici. E capite che un oggetto talmente banale come un sacchetto, che è più o meno l'equivalente dell'anfora di 6.000-10.000 anni fa, quindi il packaging è stato inventato molto tempo fa e tra l'altro era molto più sostenibile una volta, si capisce come il design permei tutti gli errori di prodotto e permei tutte le difficoltà e le strutture che ci sono nella nostra economia. Se noi avessimo disegnato un sistema energetico contando veramente gli impatti esternalità negative, non avremmo mai usato il petrolio, se non in alcuni casi limitati, probabilmente l'avremmo usato per fare la plastica, l'avremmo usato per alcuni trasporti limitati dove è difficile sostituirlo, l'idrogeno potrà un giorno sostituire il petrolio in aviazione probabilmente. Ma il ripensare gli oggetti fin dalla loro creazione è il primo passo fondamentale dell'economia circolare. Come? Beh, innanzitutto bisogna pensare ai cicli di vita di questo oggetto. Noi vogliamo disegnare un oggetto che sia perfettamente riciclabile, che possa essere riutilizzabile, che non vada addirittura neanche, che rientri nel sistema senza addirittura modifiche. Quindi pensiamo al remanufacturing, il remanufacturing prende delle parti di automezzi pesanti, ne verifica la bontà e le reintroduce direttamente nel sistema di produzione. Questi oggetti devono essere però disegnati per poter essere reinseriti nei sistemi di produzione, così come questi oggetti devono essere disegnati per poter essere facilmente gestiti a fine vita, facilmente separati nei loro elementi, perché sì, la plastica la ricicla, ma se non la riesco a discernere dai pezzi le componenti RAI, cioè le componenti di metalli pesanti, via dicendo, non la riesco a discernere dal vetro e quant'altro, è un problema. Poi è un problema che ricade su chi deve gestire il rifiuto. Molto spesso non si riesce a fare, quindi finisce o in discarica o in mix abominevoli, di cui non si sa bene cosa farne, finisce molto spesso a fare il riempitivo delle strade. Ma non solo, lo vedremo meglio più avanti, ma nell'economia circolare gli oggetti non solo devono essere riciclati e rigenerati, gli oggetti devono durare più a lungo. Gli oggetti devono poter essere usati da più persone per massimizzare il loro valore d'uso. Lo vedremo più avanti, però il concettualizzare fin dal principio del prodotto andrà a spiegare i tre principi dell'economia circolare. Passiamo poi alla fase seconda, che è quella della produzione e rifabbricazione. Questo è abbastanza scontato, che chiunque abbia una fabbrica oggi sa che recuperare immediatamente tutti gli scarti è un vantaggio, invece che reintrodurli e doverli poi trattare come rifiuti. Se io ho un sistema, ad esempio, chiuso dell'acqua, piuttosto che un sistema chiuso che prende gli scarti di produzione e me li rimette nel sistema, è un vantaggio economico. Mi toglie tutta una serie di problemi dal punto di vista della gestione dei rifiuti speciali e mi dà anche un vantaggio strategico perché mi garantisce maggiore efficienza nel sistema di produzione. Oggi ci sono tantissime filiere di produzione che recuperano vernici, solventi, l'acqua. Oramai tutti i sistemi di produzione sono sistemi chiusi con la gestione dell'acqua. Recuperano materie prima ancora di farle diventare scarto, addirittura le trattano prima che diventino rifiuto. Sapete bene quella fase che la legge italiana trasforma uno scarto in un rifiuto e quindi poi deve essere trattato in una maniera complessa. Penso che ci sia addirittura una sessione oggi su Land of Waste, quindi ne parlerete in maniera molto dettagliata su questo critico tema nostrano. Ovviamente gli oggetti possono essere anche disegnati per poter essere disassemblati al fine vita e mantenere delle parti integre, perfettamente ancora funzionanti. Ce ne sono tantissime nei telefoni, nelle automobili. È pieno a fine vita di questi oggetti di componenti che possono essere riintrodotte nella fine riproduzione e quindi in questo modo avviate a diventare componenti dopo essere testate, dopo averne ovviamente validato la bontà e la qualità, per ovvie ragioni, e quindi reintrodotte nella filiera di produzione. Poi c'è tutto il tema della distribuzione. Molto spesso quando parlo di distribuzione economia circolare uno dice cosa centra la distribuzione con i rifiuti. In realtà la distribuzione non centra con i rifiuti. Noi, se vogliamo veramente avere un'impresa circolare, dobbiamo innanzitutto dimenticarci del concetto di rifiuto, ma soprattutto dobbiamo pensare di far tradare il più possibile il momento in cui questo oggetto diventerà rifiuto. Come possiamo fare ciò? Beh, uno dei modi per cui sostanzialmente si va a aumentare il valore d'uso di un prodotto è trasformarlo in un servizio. L'esempio è il car sharing che vi farò dopo. Il prodotto come servizio ovviamente ha modelli completamente diversi di distribuzione. Ma non solo, vi faccio un altro esempio senza entrare nel prodotto come servizio. Se io sono una grossa società che produce indumenti e ho interesse a fine vita a recuperare il cotone perché ho un'infrastruttura industriale che mi permette di disassemblare queste magliette, ci sono grosse società che lo fanno già oggi, Patagonia e C&M, riutilizzare i vari tessuti, i vari filamenti e produrre nuovi oggetti. Ora capite bene che per garantirvi questa filiera di approvvigionamento voi avete bisogno di un nuovo sistema di distribuzione che non solo venda ma che sia anche in grado di raccogliere gli oggetti che voi avete venduto e che potrete recuperare un giorno come materia prima e seconda. Un altro elemento ovviamente è il modo di consumo, i modi d'uso e di riparazione. Dicevamo, estendere il più possibile la vita di un prodotto diventa fondamentale anche offrire ai clienti delle strategie per poter allungare la vita del prodotto. Infine la raccolta. La raccolta è un momento critico nell'economia circolare di invenzioni incredibili che prendono scarti come ad esempio la buccia dell'arance piuttosto che la pula del rizzo oggi ce ne sono una miriade. Io ho un'intera cartella sulla rivista che raccolgo tutti questi casi di start-up di progetti di ricerca di innovazioni anche di grandi aziende che sono brillanti che sono belle da raccontare quindi per noi giornalisti importanti utili è interessante avere qualcosa di fresco qualcosa di veramente innovativo che cattura l'attenzione da raccontare. Però c'è un grosso problema molto spesso il tema della logistica. La logistica insieme alle tematiche legislative è uno dei principali problemi dell'economia circolare. Chi gestisce i rifiuti lo sa bene. Si sa che è complessa la gestione del vetro della plastica dei rifiuti municipali che sono come dire materie prime che chiunque ha in casa se voi dovete invece organizzare dei modelli dei sistemi di raccolta di materiali che sì sono fantastici ad esempio prendo di nuovo la buccia dell'arance perché è un prodotto esistente che viene fatto tra l'altro da una start-up italiana capite che la logistica diventa più complessa. diventa costosa quali sono i centri dove si producono questi scarti quanti ne producono qual è la scala qual è l'economicità di avere una produzione di un tessuto proveniente da buccia d'arancia che è un bene scarso che è un bene non sempre disponibile oppure la filiera dei RAE la filiera dei RAE che raccoglie rifiuti di elettronica in Italia li manda in India per essere disassemblati che li manda poi alla Cina che poi li rimanda di nuovo all'Italia come materie prime seconde estratte per essere rilavorati nuovi prodotti anzi molto probabilmente vanno negli Stati Uniti in Italia l'elettronica se ne produce poco capite che dal punto di vista degli impatti la filiera se per quanto sia ancora economica perché effettivamente i RAE hanno materiali di valore dal punto di vista ambientale ha un impatto pazzesco e quindi quello che dove essere un elemento rigenerativo finisce per essere sì riciclo ma qual è poi il vero impatto e quindi il tema della raccolta è un altro dei grandi temi critici dell'economia circolare ed infine e qua torniamo all'elemento che tutti sanno essere componente fondamentale dell'economia circolare il riciclaggio cioè la trasformazione della materia prima in materia prima seconda nel libro che trovate tra l'altro anche a disposizione qua che cos'è l'economia circolare che è un piccolo riassunto di quello che è una filosofia come dire oggi molto studiata molto dibattuta anche paradossalmente esistono 118 definizioni di economia circolare ha riscontrato un paper accademico di un'università americana che dimostra come sia un concetto anche fluido un concetto che si sta trasformando e che viene manipolato anche dagli interessi di questo di quella impresa oggi vediamo compagnie che producono acqua di plastica acqua in bottiglie di plastica che si definiscono circolari capite bene che un bene come adesso non so ci sono produttori di acqua in bottiglie ma capite bene che un'acqua una bottiglia di plastica contenente acqua è un bene superfluo è un bene completamente sostituibile quindi non potrà mai essere un elemento un prodotto circolare e quindi capite che è un concetto fluido e per cercare un pochino di sistematizzarlo prendendo appunto studi che esistono nel settore l'ho diviso l'ho caratterizzato con tre principi il primo principio appunto è quello della riduzione dello scarto e la trasformazione in materia prima e seconda lo diceva benissimo Poli prima la cosa più saggia è ridurre ovviamente qualcosa che possa diventare scarto ancora prima di poterlo trasformare e secondo quello che abbiamo commentato fino adesso appunto la realizzazione di nuovi materiali derivati dagli scarti un esempio fantastico in Italia lo costituisce il pneumatico la filiera del pneumatico è probabilmente una delle più brillanti nel nostro paese per la capacità di organizzazione quindi da parte di logistica per l'innovazione nel design dei nuovi prodotti oggi col polverino del pneumatico si fanno tantissimi oggetti dagli isolanti per le pareti ai tappetini per i parchi giochi a tutta una serie di componentistica per l'arredamento per le infrastrutture si fa l'asfalto quello che assorbe assorbe i suoi rumori quindi con anche impatti positivi sulla salute delle persone e si sta lavorando sulla rivolcanizzazione cioè sulla trasformazione della gomma di nuovo in pneumatico a fine vita e questo dimostra chiaramente come dire il ciclo perfetto di una materia abbondante che può essere facilmente riciclata che può essere diventare nuovamente oggetti di valore con caratteristiche uniche che sono la gomma e con un mercato paradossalmente per il pneumatico a fine vita che ha maggiore domanda quasi di quanta è l'offerta vuol dire che c'è più gente che vuole il polverino pneumatico fuori uso di quanti pneumatici attualmente sono impiegati e che è interessante perché ci fa vedere uno scenario futuro che probabilmente oggi non è il caso ma che lo vedremo indubbiamente nel comparto della bioeconomia cioè quella parte dell'economia circolare che concerne tutto l'organico ovvero tante di quelle cose che ha parlato Gunther Poli per cui dagli scarti agricoli si possono fare materiali si possono fare biogas si può fare biochar quindi paradossalmente ci sarà una domanda importante di questi scarti e che andrà sul mercato a competersi appunto con ciò che è l'offerta vincerà l'energia vinceranno i gas vinceranno i biomateriali o cosa vincerà ovviamente sempre nel rispetto del primo principio di tutti i biomateriali che la sicurezza alimentare deve essere il primo diritto garantito quindi non vendiamo i scarti alimentari che possono essere usati per i fertilizzanti per fare biomateriali ovviamente separato dell'up cycle non aggiungo nulla ma questo è un esempio carino che mi piace citare che tra l'altro è una start up veneta trentina che ha creato dei depuratori di acqua per l'acqua semplicemente impiegando tappi di bottiglia quindi prende un oggetto che è assolutamente quasi privo di valore senza alcuna trasformazione quindi senza alcun input di energia o acqua sono stati messi in questo sistema funzionano come carrier per i batteri che si mangiano poi gli elementi impuri dell'acqua quindi questo è un esempio da manuale direi di up cycle quindi di prendere uno scarto e di trasformarlo in qualcosa che è un valore ancora superiore senza addirittura la trasformazione quindi senza proprio qualsiasi tipo di input né chimico né fisico né energetico faccio un altro esempio sempre classico quello dell'uva uva che diventa ovviamente vino vino che con le sue vinacce può produrre o polifenoli per il mondo della cosmetica oppure ovviamente la grappa e dagli scarti le vinacce esauste addirittura oggi si possono produrre tessuti tessuti che a loro volta possono diventare compost e quindi diventare nutrimento per la vigna però voi avete avuto Gunther Pauli stamattina quindi sinceramente questo esempio impallidisce di fronte alla sua visione ipercomplessa degli elementi organici nutrienti della terra per trattare questo pletora di materie a fine vita ovviamente avremo bisogno di nuove strutture strutture che saranno sempre più localizzate quindi si passerà dai grandi centri di raccolta degli scarti a invece centri di medie dimensioni localizzati sull'editorio in grado di trattare tutti gli elementi di fatto sono quelli che sono i nostri centri di raccolta oggi semplicemente organizzati in maniera più efficiente più integrata dove alcuni elementi possono essere direttamente trattati quindi avere già una bioraffineria integrata per gli oli di frittura che si raccolgono dai ristoranti e dovrebbero essere raccolti anche delle case dei cittadini che abbiano dei sistemi di compostaggio integrati che magari abbiano al loro interno anche delle serre che raccolgono direttamente questi elementi nutrienti che quindi possono essere produttivi e che abbiano anche un aspetto interessante noi oggi il rifiuto come dire mi piaceva molto la slide dei pannolini con la m***a di Poli perché abbiamo questa visione agghiacciante degli scarti noi siamo disgustati dai nostri reflui siamo disgustati dalla spazzatura delle discariche in realtà se ci pensate le deiezioni umane adesso non uso più la parolaccia che ho usato prima però le deiezioni umane sono un sistema perfetto hanno già una logistica integrata se pensate le nostre fognature sono sistemi che convogliano materia organica che può diventare poi o biogas o addirittura compost che hanno già un'infrastruttura di suo quindi i pannolini va bene raccogliere ma addirittura ricordiamoci possiamo raccogliere anche quella di noi adulti senza necessariamente l'uso dei pannolini con un'infrastruttura mi ripeto che già esiste ed è perfetta e che è stata creata dai romani duemila anni fa e quindi è importante lavorare anche sull'immagine è importante lavorare su un concetto che un rifiuto non è più un rifiuto cioè qualcosa che porto via da me è qualcosa che tengo verso me è qualcosa che ha valore è qualcosa che è una bellezza questo qua è un centro di trattamento rifiuti a Parigi capite che scambierei volentieri la facciata di casa mia per questo posto e quindi è importante dare una nuova immagine dei prodotti a fine vita una nuova immagine dei rifiuti far veramente capire questo le favole sicuramente aiutano quei più piccoli far capire il valore di questo noi nella rivista lo facciamo perché la rivista ha puntato molto sul design noi trattiamo effettivamente rifiuti scarti e però abbiamo voluto impostare un design grafico bello accattivante perché volevamo veramente far capire a chiunque che l'economia circolare ha un valore ed è sexy velocemente perché penso che il tempo stia correndo abbiamo ancora quanto? 10 minuti vado veloce sul tema invece della massimilizzazione del valore d'uso della materia l'esempio canonico è quello dell'automobile l'automobile è un oggetto che giace inutilizzato per il 95% del suo tempo vita 90-95 seconda della persona e che significa che è un insieme di materiali alcuni anche molto preziosi ricordatevi che per fare un'automobile si immette in atmosfera metà della CO2 di tutto il suo arco di vita capite bene che si guidare l'automobile inquina ma anche comprare e lasciarla parcheggiata inquina tantissimo hai già inquinato ancora prima di fare il primo chilometro quello si hai già fatto quasi metà della CO2 che produrrà in tutta la sua vita l'automobile quindi si capisce bene che oltre a questo impatto ambientale gravissimo c'è anche una serie di materiali che tra l'altro occupano spazio fisico che toglie spazio nelle città che toglie spazio per le ciclabili per i parchi per i tavolini dei bar e che è stupido di fatto lasciare materiali inutilizzati ci sbattiamo tanto facciamo le guerre per avere questo e quel materiale fondiamo l'alluminio dobbiamo procurarci metterre prezioni per la componentistica elettronica e poi lasciamo sotto la pioggia e di nuovo sotto la merda degli uccelli se verrà mai tutti sorridono la parola merda e continuano a usarla e quindi capite bene che trasformare un'auto da un prodotto a un servizio può avere un impatto positivo perché? perché le auto del car sharing dimostrano che aumentano il tempo d'uso al 40% dal 10 al 40 fino al 50 in alcuni casi vuol dire che quella stessa quantità di materia è utilizzata in maniera più intelligente e voi pensate a quanti oggetti che avete in casa e che rimangono assolutamente inutilizzati per quasi tutto il loro tempo vita e il mio trapano viene usato se va bene 5 minuti all'anno due buchi e sta lì qualcuno probabilmente bricolero lo usa molto di più però ha senso che una persona che non è un bricolero e probabilmente anche un incapace a fare i buchi si tenga un trapano un oggetto per quanto anche economico che però non viene impiegato avrebbe più senso se una società mi offrisse il buco come servizio cioè venisse una persona a casa mia mi fa il buco io gli pago quello che deve essere pagato lo fa con un trapano molto più efficiente la compagnia comunque ci guadagna perché mi fa pagare il valore di servizio non il valore dei trapani e quindi questo avrebbe un impatto positivo la domanda che tutti mi dicono si vabbè ma io se vendo un decimo dei miei trapani come ci guadagno che è una domanda legittima perché l'economia circolare non vuole essere un'economia dove le aziende improvvisamente falliscano in alcuni casi però la valutazione può essere fatta se tu offri una serie di servizi tali per cui tu vai a compensare o in alcuni casi addirittura aumentare i tuoi introiti puoi adottare un modello di business di questo tipo lo fa Philips lo fanno le principali case di produzione dei pneumatici Daimler che propone il car sharing non è lega ambiente il primo l'aveva proposto lega ambiente adesso sono le grosse compagnie dell'automotive che spingono tra l'altro per avere il car leasing e lo spingono non perché sono bravi ma perché hanno capito che è un modello anche vantaggioso economicamente perché tu ai servizi ci aggiungi la performance nei pneumatici come si fa io ti do in affitto al pneumatico io ti do tutta una serie di sensori che ti misurano esattamente il tuo comportamento da autista sapete quanto impatta un pneumatico sull'efficienza di un camion tantissimo basta un mezzo millimetro in meno che il vostro camion consuma un x per cento in più di benzina io ti garantisco un pneumatico che è sempre efficiente che te lo risco te lo rimodulo quando hai un problema ti so comunicare sempre i comportamenti ti dico ehi autista vai più piano perché stai andando troppo veloce quindi la frenata poi consumi troppo pneumatico e quindi io ti sto dando una serie di servizi che a te hanno un vantaggio economico da un'altra parte noi abbiamo noi non siamo americani gli americani hanno delle case immense perché hanno le case immense perché sono pieni di oggetti quanto potrebbe risparmiare un americano se avesse molti meno oggetti tantissimo pensate quanto costano le case a Manhattan e sono mediamente grosse dimensioni capite che un prodotto come servizio un'azienda se lo fa in maniera intelligente può offrire un vantaggio per il cliente e può offrire un servizio che sia vantaggioso economicamente anche per se stessa questo ovviamente rimane limitato ai casi dove ciò è applicabile il terzo principio di vita e il terzo principio dell'economia circolare è l'allungamento di vita del prodotto ovviamente diciamo è fantastico possiamo riciclare tutto trasformare ogni cosa se l'abbiamo disegnata in maniera appropriata e se abbiamo un sistema di raccolta e processamento idoneo l'abbiamo condivisa con il numero più alto di persone possibile se l'oggetto lo possiede o se il servizio lo offre necessario lo ritiene necessario ovviamente dobbiamo ritardare quanto possibile il momento di trasformazione di questo oggetto perché se lo state offrendo come servizio ovviamente per voi è un costo perché se la macchina ve la scassa non vi dura poco non siete un'azienda furba voi se avete una macchina che volete far usare dal più alto numero di persone possibile me la fate super resistente super durevole se mi affittate jeans come fa Matt Jeans ad esempio i jeans devono durare perché se ritiene una persona un anno magari 3-4 persone per un anno e poi già si rompono tu devi pagare tu il passaggio da proprietà a prodotto come servizio è importante come valore durata del prodotto voi dovete garantire un prodotto che sia durevole ma lo vuole anche il cittadino un prodotto che sia durevole perché perché io devo buttare via un intero telefono quando mi interessa magari sostituire solo la fotocamera o voglio cambiare la batteria ci sono un sacco di persone quando faccio questo intervento mi dicono è vero il mio Nokia 3310 si cambiava la batteria tranquillamente oggi per andare a cambiare la batteria dell'iPhone devi andare all'Apple Center che costa tra l'altro tantissimo oppure da una persona specializzata che comunque ti fa pagare il servizio in maniera abbastanza abbastanza onerosa ma non solo noi abbiamo un dispositivo che rende vecchi gli oggetti che non è un dispositivo fisico è un dispositivo culturale e noi l'abbiamo inventato in circa fine settecento che è la moda quando improvvisamente si volevano vendere più cappellini abbiamo cominciato a creare le stagioni dei cappellini prima vanno i cappellini gialli poi quelli grandi poi quelli piccoli e noi abbiamo talmente reso perverso questo modello della moda che oggi il settore del test il settore del fashion è uno dei più impattanti al mondo perché consumiamo un numero elevatissimo di prodotti di bassa qualità principalmente l'Italia fa eccezione ma nel resto del mondo si comprano sempre più spesso prodotti scadenti di bassissimo costo non è vero in realtà l'Italia non fa eccezione però qualche elemento di resistenza ce l'ha quantomeno su questo che hanno impatti tra l'altro sociali pesantissimi noi quando compriamo una maglietta a 3,99 euro non capiamo che in realtà quel costo lo sta pagando un altro paese un'altra famiglia o il pianeta che avranno i nostri figli sono costi che vengono nascosti nel prodotto e che hanno impatti pazzeschi e con una moda sempre più veloce sempre più rapida adesso si parla addirittura di instant fashion quindi non più le stagioni autunno e inverno ma addirittura di 3,4 pubblicazioni da parte di una fashion house durante una stagione semplicemente per creare nuove linee nuovi prodotti da far comprare e quindi capite che ad esempio andare a operare come sta facendo Patagonia che è un famoso brand dell'outdoor strategie dove io posso restituirti il prodotto e tu stessa l'azienda me lo ripari tra l'altro Patagonia lo fa a livello industriale non lo fa con il sarto ha un'intera linea di produzione dedicata al repair può diventare una strategia innanzitutto di fidelizzazione e gente disposta a pagare 400 euro un cappotto di Patagonia anche perché sa che se si rompe te lo sistemano loro non il sarto che non si magari c'è sarto bravo però capi tecnici è sempre molto complicato e quindi diventa anche un vantaggio economico perché Patagonia come dire può permettersi un premium sul prezzo del proprio prodotto ha un impatto positivo perché ovviamente questo prodotto non va a finire o in qualche filiera stramba dei vestiti usati che vanno poi venduti a basso costo in Africa invece che usati come charities e purtroppo è una storia che io stesso ho dovuto scrivere come giornalista e allo stesso tempo non finiscono in discarica perché ancora tantissimi vestiti oggi finiscono in discarica e tra l'altro tanti di questi vestiti sono fatti di fibre plastiche non sono cotone sono anche inquinanti invece potrebbero essere facilmente trattati e quindi anche tutto il tema del fine vita e questo assalto è un elemento importante Accenture e compagnie di consulting continuano con il loro lavoro per dimostrare come questi modelli di business possono effettivamente in alcuni settori in alcuni casi essere impiegati quali sono i vantaggi economici per un'azienda perché qua non si parla solo di salvare l'ambiente anzi si parla proprio di garantire una strategia alternativa o aggiuntiva complementare tu puoi continuare ad avere prodotti che vendi normalmente puoi avere una linea premium che vendi come servizio quindi sta un pochino nell'economics capire come si può orientare nuovi modelli di business questa è domanda sbagliata l'ultima cosa che dico perché ho finito veramente il tempo un elemento principale per attivare i processi di economia circolare è quello del procurement la città di Milano ha firmato ieri un accordo con la McArthur Foundation per stimolare i processi di questo tipo questo è un modello virtuoso innanzitutto per accelerare i processi di circularity nelle aziende in altri casi lo stanno facendo le banche favorendo linee di credito come fa Banca Intesa per le aziende che operano modelli di circularity al proprio interno ma il fatto che i comuni spingano tantissimo in tutti gli elementi verso il circular public procurement è una strategia importante per attivare un mondo economico quello italiano delle piccole e medie imprese che ha più difficoltà a introdurre politiche di circularity al proprio interno è più facile farlo se sei una grande impresa ma che in futuro saranno un vantaggio strategico in Europa e nel mondo io qua mi fermo vi ringrazio se avete domande magari due minuti li rubo ancora io guardo gli organizzatori perché sui tempi quindi se ci sono domande sono qua altrimenti lasciamo il campo al prossimo regatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti